Maurizio, bentornato. Ho sentito che hai mal di denti. Non parlarmi di mal di denti che se prendo tutti i dentisti che ho conosciuto così, guarda, non saprei cosa dire. La mia medicina per farmi guarire i denti è questo grappino qua, che la sera quando vado a dormire mi faccio due sgorgossate di grappa e il dente passa. Perché sono andato ad aggiustarvi così ma non c'è un dentista che mi metta a posto bene i denti. Guardate qua, ho speso due mila e 800 lire di questo dente ho placato in oro e mi fa un male. Perché se io non metto la grappa la sera il dente fa male. Ma perché il dentista mangia con i tuoi denti? Eh, il dentista mangia con i miei soldi, non i denti. Eh, il dentista mangia con i miei soldi. Adesso sono disperato. Non ne metto più a posto di denti ma con la grappa ho trovato la medicina ideale. E allora? Salute. È tutta salute. Basta bere un bicchierino di grappa di foresto sparso che là è il posto della grappa che ti fa guarire tutto. È tutta una medicina perfetta. Te bevi questa grappa qua, fai così, guarda. Non è che bisogna berla. Bisogna prima gustarla. Te la tieni dentro un secondo, poi la mandi giù, il dente è passato. È passato. Il verme che c'è dentro che ruga. Il verme rugatore. Il verme rugatore che praticamente è dentro che ruga perché quando ti fanno il dentista ti uturra il dente non ti uccide il male che c'è dentro. E qua c'è dentro ancora il male che c'è dentro. Si chiama nervo. Nervo sciatico. Te metti dentro la grappa, lui ti passa. Con questo io vi dico a tutti, non andate più dai dentisti, fate un po' sciopero come me. Basta. Vedrete che i dentisti si calmeranno con i pressi e con tutto perché è ora di finirla che andiamo a spendere dei soldi e i denti fanno male. Qua c'è qualcosa che non quadra. C'è il governo, non solo il governo. Ma quello è un altro video. Quello è un altro video. Ma qua c'è una malattia tutta unica. Vi saluto tutti. Vi saluti gli amici di Twitter. Saluto tutti i miei amici che sono collegati con me con Facebook. E tu Twitter anche adesso. Ecco anche quelli. E quelli? Chi era quelli? Chi era quelli? Twitter. Twitter. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao.